Che cos'è un maestro del gusto? Un produttore, un commerciante, un artigiano che crede nel territorio e nei suoi sapori, nel valore del fare bene, nella cultura del gusto turinese. I maestri del gusto sono veri e propri testimoni della tradizione enogastronomica della nostra città. Il progetto Maestri del Gusto di Turino e provincia nasce nel 2002 grazie alla Camera di Commercio di Turino, al suo laboratorio chimico e a Slow Food, che proprio dal Piemonte ha saputo condurre a livello internazionale l'ambiziosa battaglia per un cibo buono, pulito e giusto. Il progetto Maestri del Gusto racconta un territorio che mostra sempre di più di credere nella propria attitudine gastronomica. A Torino ci sono due anime che dialogano e si confrontano. La prima, quella urbana, che ritroviamo nei negozi cittadini, nelle botteghe storiche, sui banchi dei mercati. La seconda, quella rurale, che si esprime nelle pianure intorno alla città, nelle zone collinari o nelle vallate, a diretto contatto con la terra. Dalla A di Aceterie alla V di viticoltori, passando per più di 20 categorie che coprono pasticceri, formaggiai, panificatori, macellai e molto altro, i Maestri del Gusto, in 20 anni sono cresciuti in qualità e numero. E sono ormai più di 200 le aziende che si candidano e si sottopongono alla valutazione delle caratteristiche che il progetto prevede. Come laboratorio chimico principalmente valutiamo gli aspetti igienico-sanitari, con criteri rigorosi attraverso analisi chimico-fisiche per ogni specifica produzione. Ma non solo, valutiamo il processo produttivo, la biodiversità, il benessere animale e l'ecosostenibilità del prodotto, quindi dall'approvvigionamento delle materie prime fino al packaging. L'idea è quella di affiancare il produttore per definire insieme un percorso di crescita. I Maestri sanno, che in noi, possono trovare un partner non solo per la sicurezza alimentare, ma anche per rivedere il proprio sistema di produzione, se necessario, e principalmente per preservare l'elemento del gusto. Fin dal 2002, la Rete dei Maestri ha contribuito a diffondere la cultura del cibo e l'educazione alimentare necessarie ad accompagnare in un percorso formativo nuovi cittadini, orientati verso consumi più consapevoli. La mission di Slow Food è quella di promuovere un'alimentazione buona, pulita e giusta per tutti. Se poi andiamo a declinare questo principio su singoli territori, sull'azione locale, ecco che nasce un progetto come quello dei Maestri del Gusto. Per noi è fondamentale costruire relazioni in trasparenza tra il mondo della produzione e i consumatori e, in generale, educare al gusto attraverso la sensorialità e il coinvolgimento quindi di tutti e cinque i sensi. Non è un caso che la premiazione dei Maestri del Gusto avvenga proprio, solitamente in coincidenza con il nostro evento internazionale più importante, Terra Madre Salone del Gusto, a Torino. Se hai un'azienda agricola, un'attività agroalimentare commerciale o artigianale da almeno due anni, puoi candidarti a diventare Maestro del Gusto. La partecipazione al progetto è gratuita e la selezione a cadenza biennale. Per due anni ti coinvolgeremo in un ampio programma di formazione e di azioni promozionali come laboratori del gusto, degustazioni o partecipazione in occasione di eventi inogastronomici, fiere e manifestazioni. Visita il sito maestridelgustoturino.com per scoprire come diventare anche tu un testimone del gusto torinese.